No 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 Please don't stop the music 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 Please don't stop the music 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 Wow 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 Grandi amici di youtube Ben ritrovati qui sull'unnesimo episodio dell'espedia di Witcher 3 White Hunt Se vi ricordate bene ragazzi Dovevamo scendere qui perchè stavamo seguendo le impronte del nostro amico E c'è subito il lupo Però non è mannaro Però è a livello 14 Però noi lo stendiamo con 3 coppi Molto bene E dovrebbe esserci delle impronte Eccole qui ragazzi Seguiamole Che ci dovrebbero portare al vigliacco Un corpo Si può esaminarlo Morkfark Morkfark non ha bisogno di essere vittime Strangelo È Craven? No Questo è stato qui un tempo Che? Non lo sento Se vuoi un chat Venite più vicino Le sensazioni sono veramente dolenti Vabbè Qualcos'altro da Eh Quindi il vigliacco ha cercato di attaccare Marvagley Quel lupo mannaro Occhio un altro lupo Oh la Dai non facciamoci Fermare troppo da questi lupi Stanno finendo anche i nostri potenziamenti e l'armatura Tra l'altro Eh Seguiamo questa traccia No in realtà sfocano e niente Ah Sangue del vigliacco Mmm Questa non è una bella notizia ragazzi Dove vanno? Di qua? Ah Una porta Con dei graffi Attenzione Eh Proviamo a sfondarla Con la magia così Bam No Serve una chiave Ok Ehm Sì Ah però aspettate C'è un'altra porta qui Devo fare il giro sicuro? A quanto pare Esporo la parte più remota dell'erbario Bebbario Perché non mi fa salire? Ah ok Si può andare di qui? una casa bene, si può entrare ok ragazzi usiamo questa leva queste leve, questa leva non si sa quante ce ne sono cosa devo premere qui? tira giù dai anche questo? qui ci sono delle impronte proviamo a seguirle è entrata minchia raga, dove si va qua? a parte un altro video se lo chiede a uno scheletro non penso che ti risponde dobbiamo ammazzarlo? merda ok 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 ... 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 The curse makes me bite, scratch, mangle, till I drop. You've got time before the blood's gone from me and I return. Listen carefully. Undo the curse. Free me. Finally, I will, I will reward you. Chiediamoli, ragazzi, di che ricompensa parla, perché potremmo anche liberarlo, insomma, parlo, me fa un po' pena. Allora, mi fa una pena questo qua, ragazzi. Non ti piace essere un lupo emanaro, ma a chi può piacere? I've shredded... Bene! Mentioned a reward of some kind. Looted. Raided. Drunk most away. All but one. True treasure. Hiddawee. Yours. Just... Help... Me! Ah! So, no joy in being a werewolf. Ney. It's the worst. Not, the garden, too rich and burned even, but the hunger... Non posso mangiare e non posso bere, eh, madonna. Merda! Cazzo, ma chi si potrebbe meritare una cosa del genere, oh? Come... Like... Boiling tar... Everlasting hunger, classic as curses go. Goes to explain why all those corpses went untouched. Help, or I'll return to shred you, rip your limb from limb! Vedrò cosa posso fare, dai, aiutiamolo, mi fa veramente tanta pena questo. Cosa vuol dire Nutri Morgvarg? Scusa. 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 Non ha funzionato, direi. Ehm... Ma non voglio uccidere. Vabbè, uccidiamolo, fanculo. Mi è dispiaciuto un po' ammazzarlo ragazzi Vi dico la verità Mi faceva un sacco di pena Però purtroppo Abbiamo alleviato le sofferenze Vediamo cos'è questo Ah c'è un'uscita qui Nel stesso posto che siamo entrati Sì sembra di sì Direi proprio di sì Allora per arrivare di lì Devo fare un salto Olè Ovviamente è chiuso Fantastico Ok ce l'abbiamo fatta Un po' a cazzo Ma ce l'abbiamo fatta Speriamo non sia il tempo Buttiamoci immediatamente E passiamo sotto ragazzi Tac Ok benone Ok questa cosa ci porta di qua Madonna ragazzi Questa missione si sta rivelando Più complicata del previsto Ok siamo nella zona più remota Dell'erbolaio Dopo circa mezz'ora Che provo ad entrarci Benissimo E mo? Qui c'è qualcosa Con dei graffi Cos'è quella zampa lì? Ma non l'avevo ucciso? Ma non l'avevo ucciso? Per Facebook ucciderti basta Sinceramente Rather just kill you You know I will Return Don't keep me waiting Grazie a tutti. Ci risiamo, direi di sì. Quindi praticamente ogni volta che lo uccido, lui torna in vita. Quindi io lo lascerei qua, ciao. Così proprio. Vedete, infatti sparisce, anche senza averlo ucciso. Troia... Aspetta ragazzi, qui c'è qualcosa, eh. Attenzione, c'è del sangue di vigliaco, quindi è passato per qui. Eh sì. Proseguiamo ragazzi, vediamo un po'. Sangue, sangue... Ah, qui c'è qualcosa. No, è lui? Ah, merda, l'abbiamo trovato morto. Ah, da lì, ecco cos'era. Immagino tu abbia un piano. Certo che guerra è proprio perso, eh. Spada lunga di Spircog. Ok, vabbè. Non mi sembra troppo lo guaccio. Dai, faccia sta magia, su. Graaaande. Need any ingredients for the spell? Hmm. Hmm. The blood of a newborn, a virgin's tongue, and the eye of a newt. Mind trying again without the sarcasm? I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village herbalist. All I need is energy. A great deal of energy. We're very lucky this place is saturated with magic. It's also considered sacred. Priestesses will be furious if you use the garden power to revive a corpse. All the more reason to get it over with before they realize what's happening. Beh, in effetti. Stiamo per farci nuovi nemici. We are about to make some enemies. I don't need everyone to like me. I most value the opinions of those I care about. You, for example. Grazie, Ian. Can we start? Yeah, it's done. Yeah, it's done. It's done. It's done. It's done. Yeah. Merda, che cazzo sta succedendo? Wow! Ah, stiamo cercando Siri, ma come cazzo fa? Ah, ok. Lei è il motivo per cui mi hanno maledetto. What happened to her? What was she doing here? Speak! No! Speak! What the fuck? È caduta quasi affogata. Eccoci qua, nei suoi pensieri, praticamente. Un flashback. Merda, un portale. È caduta Siri, immagino. No, sta molto bene. Chi è quello? Ah! Hello? Il ma... L'elfo? Help me. Help us both. Wow! Roccia del morto affogato. Avete capito, ragazzi? Ah, che risvolto interessante. Ecco, la Siri è svegliata, ok. Wow, ragazzi. Ok, allora, fermi tutti qui. Questo è un ottimo momento per lasciarci nel prossimo episodio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e ci rivediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi! Ciao, ragazzi!